Radio Radicale, siamo con Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, per parlare del redditometro. Allora, che cos'è successo ieri al Consiglio dei Ministri e come si sta superando la questione relativa al decreto ministeriale? Ma ha tanto rumore per nulla. La posizione del centro-est è da sempre chiara. Il redditometro è uno strumento obsoleto, anche perché ha una questione culturale e politica che non condividiamo da 30 anni. Ecco, ma questo non aveva fini accertativi? No, però, voglio dire, essendo nata un equivoco sulla rimessa in moto come strumento del redditometro, si è creata questa confusione. Parte da un principio per cui il cittadino è colpevole ed è evasore e deve dimostrare che non lo sia. Noi siamo esattamente dall'altra parte. La lotta all'evasione fiscale si fa con la semplificazione, si fa con l'abbassamento delle tasse, si fa con la ricerca di coloro che ovviamente evadono. Non è pensabile che se 30 evadono e 70 noi, 70 che pagano le tasse regolarmente, siano considerati come i 30 evasori. C'era un atto dovuto. Capisco, avendo fatto il ministro, come c'è preoccupazione da parte dei funzionari, che gli atti dovuti si facciano. Purtroppo si è creato un equivoco e ha fatto bene Giorgia Meloni a mettere uno stop. Domani ci sarà il Consiglio dei Ministri, a cui parteciperà anche il Vice Ministro Leo, che spiegherà le cose. Certo è che non si tornerà al redditometro. La fatturazione elettronica è già un redditometro? No, la fatturazione elettronica non è un redditometro, è uno strumento di trasparenza e di efficacia della pubblica amministrazione che permette di avere tutte le fatture tracciate, cosa che c'è già ed è uno strumento che funzionerà. Non è la prima volta che succede un'infortunio del genere. Allora, come affrontarli e soprattutto come evitare di trovarsi di fronte a degli atti come questo, che è un decreto ministeriale che non passa dal Parlamento, che poi provoca un terremoto politico? Ma con più conoscenza e collaborazione tra i diversi ministeri, questo avviene andando avanti e migliorando la coesione dell'azione del governo. Tante polemiche anche che poi rientrano sono determinate dalla non conoscenza del lavoro che un altro ministero fa o in questo caso addirittura che un viceministro fa. Quindi io credo lo si supera senza alcun problema. Adesso siamo a due settimane dal voto, quindi c'è anche una tensione elettorale. Quindi lei pensa che la polemica è stata ingigantita anche dalla campagna elettorale? Assolutamente sì. Sì, credo che la reazione di tutti noi a fronte di una notizia che se non poteva essere quella di un equivoco, di rimettere in moto uno strumento non condiviso, credo che ovviamente abbia fatto questa reazione. Però devo dire che Giorgia è stata brava, è intervenuta subito e quindi ha messo fine alla polemica. Leo assolto? Sì, sì, assolto. Poi Leo è bravissimo, ha appena fatto una meravigliosa riforma fiscale che non è che può andare in contraddizione con le azioni che facciamo. Grazie a Maurizio Lupi.